Io sono laureata in lettere classiche, mi sono sempre occupata di artigianato artistico. Invece secondo me questo fatto di aver studiato e approfondito la nostra storia, le nostre tradizioni, mi ha messo in grado in tutti questi anni proprio di andare incontro invece a queste realtà. Il mio lavoro fino a 5-6 anni fa è stato quello di presidente di un'associazione, di un consorzio di artigianato artistico a Perugia. Ci siamo occupati per diverso tempo di realtà artigianali importanti e anche di riviterizzare alcuni territori. Abbiamo collaborato con lo sviluppo Umbria, con lo sviluppo, abbiamo fatto grandi iniziative di promozione dell'artigianato, partecipato a iniziative importanti in Italia e all'estero di promozione dell'artigianato. Ho fatto corsi di formazione, fatto ricerca, quindi un lavoro importante. Il consorzio 5 anni fa ha messo di esistere, anche perché io sono in Terni, lavoravo a Perugia, anche per una mia stanchezza personale. E poi io sono un artigiano, sono un artigiano, faccio vedere le artistiche e speravo di ritornare al mio lavoro, di dedicarmi di nuovo a quello che sembra un lavoro soltanto manuale, ma non lo è, anche se le mani sono per noi quelle che trasmettono tutto il resto. E questo è l'importanza, il valore delle mani. Noi siamo partiti qui a Terni invece da un incontro che è avvenuto proprio all'interno di questa rete di donne che poi ha dato vita alla realtà che ci ospita in questo momento, che è la Casa delle Donne. Io faccio anche parte del direttivo della Casa delle Donne. All'interno di questa realtà della rete di donne di Terni, ho avuto modo di conoscere una di noi, una di quelle che facevano parte del primo direttivo, che ha svolto una ricerca sul territorio, una ragazza, una ragazza giovane, tuttora non ha nemmeno 30 anni, quindi sono passati 4 anni e possiamo capire che è molto giovane. Una ricerca fatta per il centro momigliano è venuta in mente a questa ragazza di andare a esplorare il territorio ternano per capire quali erano le realtà artigianali femminili del territorio. E si è trovata davanti con una realtà di 60 artigiani. Ne è venuto fare uno splendido libro che è edito dal Comune di Terni su queste realtà. Quella frase l'ha letta lì, era di Silvia Imperi. La cito perché è diventata un'amica e oltretutto perché mai coinvolto ancora una volta in questa storia. Quello era il mio lavoro, adesso lavoro volontaristicamente, tenendo da parte quello che voglio fare, l'artigiana, per portare la mia esperienza, che è tanta e profonda. Noi con quell'associazione abbiamo collaborato con designer architetti come Gaulenti, Serafini, eccetera, portarla a essere utilizzata da queste nuove realtà. In questa associazione che si chiama I semi del sapere, dal libro di Silvia Imperi, è venuto fuori un'eterogeneità di personaggi e di artigiane. Qualcuna ha la sua impresa, la sua più o meno grande. C'è anche una socia del consorzio precedente di Perugia, che però è di Derni, un gruppo di Derni, che si occupa di ceramica. La cito, il gruppo dei quattro, perché è conosciuta sul territorio. E poi ci sono realtà emergenti, giovani o obbiste, tra virgolette, che invece vogliono fare di questa loro capacità, di queste loro attitudini, un mestiere. O lo fanno già. Mi chiedeva che cosa chiediamo, che cosa vogliamo. Una cosa semplicissima. Queste piccole imprese, oltre che dell'esperienza di qualcuno come me, che le porta a confronto con il prodotto reale, con il mercato reale, con il design attuale, perché questo serve loro, e quello ci posso anche pensarci io, cercando, ricercando i miei vecchi collaboratori, mettendo l'esperienza di tutti a loro disposizione, è la realtà in cui si muove una piccolissima impresa. Allora, loro non sono in grado, molte di loro, di pagarsi l'INSE, pagarsi l'INAIL, non sono in grado di mettere su un'azienda che sarebbe sproporzionata al volume di lavoro che sono in grado di fare. E questa è una delle cose importanti, ma non a livello locale, questa è una cosa a livello nazionale. Le microimprese non vivono in questo modo. Le microimprese non vivono in questo modo.